San Benedettese femminile che esce sconfitta per tre reti a due sul prato del Dorico di Ancona nella seconda giornata del campionato di eccellenza femminile delle Marche. Rosso-Blu in doppio vantaggio con una punizione di Poli nel primo tempo che si infila sotto la traversa e poi con un pallonetto di Ponzini all'inizio ripresa. Tante e troppe le occasioni sciupate dalle Rosso-Blu e locali che non mollano anzi rimpolpano l'attacco con l'Isica cambio azzeccato perché grazie alla sua doppietta pareggiano e poi ribaltano il match. Da rivedere sicuramente alcune situazioni tattiche e meccanismi in fase di non possesso. Ora le ragazze di Mr. Pompei si preparano al prossimo delicato match contro la Maceratese. Appuntamento allo stadio Petrella di Ripatranzone domenica 27 ottobre alle ore 15.